Intanto è stata un'esperienza bellissima che ci arricchisce sempre tutte le volte che portiamo avanti questa iniziativa e abbiamo la fortuna di ricevere un invito come è stato nel caso vostro. A noi ci arricchisce sempre perché ci fa capire l'importanza di quello che rappresentiamo e soprattutto l'importanza di quello che dovremmo fare, a maggior ragione in questo periodo. Noi siamo onorati di essere stati qui, siamo onorati della vostra accoglienza ma soprattutto siamo onorati dell'incontro che abbiamo avuto con questi bambini, ormai quasi ragazzi. Credo che questo bisogna farlo in maniera più consistente e anche direi in maniera più seria perché queste iniziative non solo ci danno la possibilità di capire effettivamente oggi quali sono i propri postumi che ha lasciato questo maledetto virus verso i ragazzi. Ma soprattutto le iniziative che dobbiamo portare avanti noi nei confronti loro. Per cui veramente vi ringrazio tanto a nome del Catania e credo che sia stato anche molto intelligente da parte vostra oggi produrre questa giornata. Quindi vi ringrazio tanto. Circo Didattico Fava vi ringrazio tantissimo. Ancora grazie per aver partecipato a questo incontro. Grazie ancora. Grazie. Grazie. Grazie.